Qui c'erano due bellissimi alberi di alto fusto, uno qui e uno di là che adesso è rimasto il tronco e a un certo punto non hanno fatto più niente, non hanno fatto né foglie né niente. Guarda caso li hanno tagliati perché hanno detto che per l'incolumità delle persone c'era bisogno di tagliarle perché era pericoloso. Però guarda caso sono morti tutti e due, non lo so, ci sarà un'inchiesta in corso, vedranno se è vero o non è vero. Nel cuore di Mestre a pochi passi dal centro le barche e piazzale Cialdini sono stati abbattuti due storici alberi ma questa azione non convince troppo gli abitanti della zona. A chi giova più posti nel parcheggio, meno pulizia da pulire e le foglie da fare. Come vedete lì c'è un tronco di quello grosso che è fresco secondo me. Comunque sarebbe bene vedere se è vero che questi alberi sono morti, si sono assicchiti di morte naturale perché mi sembra impossibile. Purtroppo già a Mestre ce ne sono pochi. Tresdaliamo anche questi grossi alberi che hanno una storia, è un peccato. La Mestre vecchia se ne sta andando con tutto. Anche perché come potete vedere il parcheggio non è che sia tenuto bene, è pieno di foglie, di rami, di avallamenti, di cose. Qua c'è solo il lucro di pagare tanti soldi per il posto perché i posti non ci sono. Ma il taglio degli alberi non è l'unico problema che viene segnalato. Qui siamo a 150 metri da Piazza Ferretto. Se è possibile tenere fili a cielo aperto così, non so se neanche se siano regolari. Guardate come si è messo tutto quanto qua, guarda. Sembra di essere in una foresta, è una schifezza, sembra di essere in una ballet francese. Grazie.